Secondo resoconti scoperti, Meghan Markle e il principe Harry sono stati snobbati da un'impresa locale durante un viaggio di Natale all'isola di Vancouver, è l'ubicazione del duca e della duchessa del Sussex questo Natale è attualmente sconosciuta. La regina ha tuttavia, annullato la sua tradizionale visita festiva a Sandringham. Gli assistenti di Buckingham Palace hanno etichettato la Decisione come personale, con sua maestà che ha adottato un approccio precauzionale in mezzo ai crescenti livelli della variante Omicron Covid, i membri della famiglia reale dovrebbero ancora farle visita a Windsor, anche se non è chiaro quali saranno i membri della famiglia. Harry e Meghan non hanno confermato dove trascorreranno il periodo festivo, ma non dovrebbero tornare nel Regno Unito. Si era ipotizzato che i Sussex potessero fare un'apparizione, specialmente con la nascita della loro figlia Lilibet all'inizio di quest'anno. Tuttavia, questa sembra essere stata solo una speculazione, una fonte ha detto a Page Six che il personale sa che Meghan e Harry non verranno, dal momento che avrebbero comunicato diversamente se lo fossero. Sarà il terzo Natale consecutivo che Harry trascorrerà lontano dal resto della sua famiglia. L'anno scorso, le restrizioni del coronavirus hanno impedito ai Sussex di tornare nel Regno Unito, anche se avessero voluto. Hanno trascorso il Natale del 2019, nel frattempo, in Canada. Sono riemersi pochi giorni dopo Natale per rivelare i loro piani per fare un passo indietro dalla vita reale, il loro viaggio, però, non è andato del tutto secondo i piani. Sfortunatamente, la richiesta della coppia di mangiare in un ristorante locale è stata respinta. A causa delle difficoltà di sicurezza che derivano dall'ospitare due delle persone più riconosciute del pianeta. Avevano programmato di mangiare al Deep Cove Chalet, un esclusivo ristorante di pesce con magnifiche viste sul mare. I proprietari del ristorante, Beve e Pierre Coffel, hanno rifiutato la richiesta di ospitare la coppia reale a cena.